Ci sono due elementi cruciali per la crescita che invece in Italia scarseggiano, la produttività e il fattore umano. Ce lo spiega molto bene la professoressa Veronica De Romanis, economista docente di European Economics alla LUIS di Roma e alla Stanford University di Firenze. Le abbiamo incontrate a Roma presso la sede di ADN Cronos a margine di un evento per la presentazione del report realizzato da The European House Ambrosetti. Dottoressa De Romanis, lei ha spiegato che nel nostro paese tra i tanti altri problemi ce n'è uno di tipo economico che è molto importante che poi condiziona tutto il resto che è quello di una ridotta produttività, di una scarsa produttività. Se ne parla pochissimo la parola spaventa, evidentemente associata a una percezione negativa, ma innanzitutto perché c'è questo problema di produttività? Da che cosa è condizionata la produttività? Quello che manca nel nostro paese è un segno più alla produttività totale dei fattori che è quella parte residuale della produttività del capitale e del lavoro che misura il grado di attrattività del sistema economico, quindi l'efficienza del sistema della giustizia, della pubblica amministrazione, dei costi. Ecco, se noi andiamo a guardare i dati è da vent'anni che questa produttività è ferma. In Germania cresce, in Francia cresce un po' di meno rispetto a quella tedesca, ma è sempre su un trend decrescente. Ecco, ma dipende dal sistema privato, delle imprese private o dipende prevalentemente dal sistema pubblico? Perché per esempio nel sistema delle aziende private i nostri salari sono tra i più bassi d'Europa, addirittura ci sono degli operai che hanno dei livelli salariali al di sotto di quello che è il minimo necessario per una vita minimamente decorosa. Quindi dove sta il problema? Il problema dipende molto dalla mano pubblica, dalle riforme che non sono state fatte, da un sistema che è inefficiente, da una macchina della pubblica amministrazione che è complicata, ampollosa, complessa e da soldi, molti spesi, ma spesi anche male. Quindi si tratta proprio di rivedere il nostro sistema economico e questo lo si può fare, lo stiamo facendo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove la parte principale, bisogna sempre ricordarcelo, sono le riforme, è così che si cambia la produttività, cioè spendere non fa crescere, ti fa alzare ma poi scendi giù. Se noi vogliamo cambiare quello che si chiama il PIL potenziale bisogna agire sulle riforme. Anche perché poi questi soldi al PNR prima o poi bisogna pure restituirli. Poi lì ha parlato del capitale umano, perché non ci vogliono solo i soldi, ci vogliono anche la gente che lavori, lavori nel modo giusto, nel modo che serve oggi. Ecco dal punto di vista del capitale umano, che l'ha distinto in 5 sottoclassi, vorrei innanzitutto che ce le spiegasse e poi un suo commento. È sul capitale umano che dobbiamo investire, è così che si cambia la produttività. Noi abbiamo un capitale umano che è perso e sono i 2 milioni di NIT, cioè quei giovani che non lavorano, non studiano, non formiamo e quindi sono completamente fuori dal mercato del lavoro. Abbiamo un capitale umano che esportiamo e sono i giovani invece le eccellenze che noi formiamo ci costano e poi però vanno all'estero proprio perché c'è un sistema di salari troppo bassi e di produttività che non va bene. C'è un capitale umano che noi teniamo, diciamo che non c'è e questa è la demografia. La demografia perché sappiamo che abbiamo un grande problema di natalità. C'è poi la quarta categoria, un capitale umano che è sprecato perché non lo formiamo abbastanza. Lo vediamo anche dai test invalsi. I nostri giovani, c'è una grande percentuale che legge ma non capisce il testo che sta leggendo e infine forse la cosa principale è un capitale umano nascosto che sono le donne che non lavorano nel nostro paese. C'è speranza perché il quadro non è particolarmente brillante. C'è una speranza per il futuro? Certo che c'è una speranza perché poi ci sono delle aziende che funzionano molto bene nel nostro paese, l'abbiamo visto oggi con il rapporto Merck, abbiamo delle eccellenze, bisogna fare sistema e soprattutto secondo me quello che è interessante è ciò che ha detto l'amministratore delegato oggi di Merck, che bisogna ogni attore deve fare la propria parte, quindi le imprese, il settore privato, lo Stato, chi ci governa, i sindacati, così che si cambia il sistema economico.